ciao a tutti oggi vediamo il livello d'aggiustamento vediamo che cos'è e soprattutto a che cosa può essere utile bene quindi la composizione l'ho già creata e l'ho intitolata livello d'aggiustamento come sfondo della composizione mettiamo la scacchiera bianca e grigia quindi uno sfondo più chiaro e prima ancora di aggiungere il livello d'aggiustamento aggiungo nella scena qualche elemento aggiungo per la precisione qualche disegno illustrator uno è il primo un po più piccolo due mettiamone quattro sparsi qua e là benissimo ora aggiungo il livello d'aggiustamento per aggiungerlo si va nel menu layer voce new adjustment layer livello d'aggiustamento vediamo cosa succede quando lo aggiungo ecco il livello d'aggiustamento si è aggiunto qua è un livello trasparente che non contiene nulla in realtà questo livello d'aggiustamento creato così ve lo faccio notare subito nella finestra di progetto è un solido come quello che abbiamo visto nella lezione precedente cioè un rettangolo tinta unita eccolo là però in questo caso ha questa funzione qua accesa questo bottone rappresentato da questo cerchio mezzo bianco mezzo nero quindi l'accensione di questo pulsante fa sì che questo livello non si veda più divenga trasparente per cui in teoria qualsiasi livello nella timeline può diventare un livello d'aggiustamento se io gli accendo questo pulsante qui ma a parte questo a cosa può servire questo livello trasparente serve ad aggiungerci effetti i quali poi verranno applicati ai livelli sottostanti per capirci meglio facciamo subito un esempio se io a questo livello adjustment layer lo seleziono gli aggiungo un effetto uno di quelli che già conosciamo per esempio effect perspective drop shadow cioè l'effetto che crea l'ombra che cosa succede l'effetto ombra applicato a questo livello non si vede in quel livello si vede applicato a tutti i livelli che stanno al di sotto del livello di aggiustamento infatti tutti i disegni che al momento sono sotto il livello d'aggiustamento hanno l'effetto ombra i parametri dell'effetto ombra si gestiscono sul livello d'aggiustamento per cui se volessi un'ombra un po' più distante vado nel parametro distance l'aumento e la distanza dell'ombra aumenta contemporaneamente a tutti i livelli quindi praticamente sto applicando lo stesso effetto a tutti i livelli che stanno al di sotto del livello d'aggiustamento per capire ancora di più questa cosa se io prendo il livello d'aggiustamento e lo sposto più in basso nella gerarchia dei livelli che ne so lo metto qui al terzo livello adesso l'effetto ombra viene applicato soltanto agli ultimi due livelli che sono in questo caso il pesce e il granchio mentre il polipo e la stella marina siccome sono dei livelli che stanno sopra il livello d'aggiustamento non ricevono l'effetto ombra quindi qualsiasi effetto io applico al livello d'aggiustamento quell'effetto lo si vede applicato ai livelli che stanno al di sotto e solitamente il nome che si dà al livello d'aggiustamento indica l'effetto che gli è stato aggiunto cioè in questo caso l'adjustment layer 1 lo potrei rinominare tasto invio ombra o effetto ombra dove io lo metto nella gerarchia dei livelli lui agisce sui livelli sottostanti se lo rimetto su in cima di nuovo tutti quanti i livelli ricevono l'effetto ombra una cosa importante da notare è che se io apro le proprietà di trasformazione del livello d'aggiustamento quindi nella timeline apro c'è la sezione effetti e transform apro transform dove ci sono le solite 5 proprietà se io per esempio diminuisco la scala del livello d'aggiustamento l'effetto ombra vi faccio notare che si vede esattamente dove c'è il livello d'aggiustamento guardate bene le ombre sui disegni si vedono solo lì dove c'è il livello d'aggiustamento in questo caso è più piccolo della composizione e l'ombra la si vede proprio lì all'interno del livello d'aggiustamento se lo sposto lo posso fare anche a mano ecco per esempio lo vado a spostare sopra la stella adesso l'effetto ombra lo si vede solo lì dove c'è la stella perché il livello d'aggiustamento è piccolo e copre soltanto il livello stella quindi è importante sapere che l'effetto lo si vede lì dove esiste il livello d'aggiustamento se si vuole che l'effetto si veda su tutta quanta la composizione il livello d'aggiustamento deve essere grande almeno come la composizione può essere anche più grande ma sicuramente se è più piccolo l'effetto si vede solo all'interno dell'aria occupata dal livello d'aggiustamento ora per far capire che l'effetto applicato al livello d'aggiustamento si vede solo lì dove il livello d'aggiustamento esiste voglio fare un altro esempio elimino la timeline tutto quanto torno nella finestra di progetto e aggiungo nella timeline una fotografia per esempio questa bella foto di new york riduco la dimensione e la metto grande così benissimo ora aggiungo nella timeline un livello d'aggiustamento layer new adjustment layer eccolo qui benissimo a questo livello d'aggiustamento vorrei mettere un effetto che mi permette di ingrandire la fotografia sotto quindi seleziono il livello d'aggiustamento menu effetti questa volta vado nella famiglia distort e applico un effetto che ancora non abbiamo mai applicato transform l'effetto transform contiene le proprietà di trasformazione scala posizione rotazione però sotto forma di effetto non di proprietà base per cui se adesso io per esempio aumento la scala dell'effetto transform ok ingrandisco tutti i livelli sottostanti e fin qui niente di strano avrai potuto ingrandire direttamente la fotografia ma se prendo il livello d'aggiustamento e lo rimpicciolisco lo faccio a mano guardate per esempio lo faccio diventare una colonna che occupa tutta quanta la composizione in verticale che succede che l'ingrandimento la scala avviene soltanto in quella porzione lì occupata dal livello d'aggiustamento dove io vado a mettere il livello d'aggiustamento lì si vede l'ingrandimento della fotografia altrove la fotografia non subisce nessun effetto di ingrandimento per cui potrei fare una cosa di questo tipo potrei fare un'animazione sulla posizione del livello d'aggiustamento vediamolo corcio la barra della preview faccio partire la preview io vedo l'effetto ingrandimento lì dove c'è il livello d'aggiustamento il quale si sta muovendo e quindi ho questo strano effetto già visto in qualche animazione grafica qua e là e non solo essendo questo effetto indipendente dalla fotografia perché sono due livelli indipendenti la fotografia stessa può avere una sua animazione che ne so la fotografia potrebbe ingrandirsi lentamente proviamo evidenziamo la fotografia clicco il tasto s per evidenziare la scala e voglio che la fotografia all'inizio sia grande così com'è quindi accendo l'orologio e dopo 4 secondi la fotografia sia grande un po' di più tipo così quindi ho la foto che si ingrandisce sopra questa barra che crea un ingrandimento in movimento io questa operazione la potrei fare anche su un secondo livello d'aggiustamento se per esempio io adesso duplicassi il livello d'aggiustamento quindi lo seleziono edit duplicate ho due livelli d'aggiustamento entrambi con un aumento di scala quindi il risultato finale è una scala doppia guardate qua spengo un attimo l'ultimo livello d'aggiustamento nella timeline o disattivo così l'ingrandimento è 209 se lo accendo è 209 più 209 400 quello che è quindi se io magari al secondo livello d'aggiustamento faccio fare un'animazione diversa quindi seleziono il secondo livello d'aggiustamento clicco il tasto U per evidenziare i keyframe io so che quel primo keyframe è la posizione di sinistra il secondo keyframe la posizione di destra se io per esempio adesso invertissi la posizione di due keyframe quello finale lo mettessi all'inizio e quello iniziale lo mettessi alla fine cosa succederebbe che l'animazione della posizione si inverte partirà da destra e andrà verso sinistra quindi queste due barre a un certo punto si incrociano e l'effetto sarà lì dove si incrociano raddoppiato proviamo e uno dei due livelli d'aggiustamento potrebbe essere anche un po' più largo e il secondo livello d'aggiustamento potrebbe avere una scala diversa non solo a uno dei due potrei aggiungere anche un secondo effetto per esempio a questo qui al secondo livello d'aggiustamento che va da destra a sinistra bene questo qua aggiungo un secondo effetto vediamo della famiglia blur in sharpen sfocature e gli aggiungo un effetto fast blur aumento un po' con la sfocatura ecco qua si dovrebbe vedere che c'è un effetto che ingrandisce e un effetto che sfuoca mentre l'altro invece lo lascio soltanto con l'effetto che ingrandisce vediamo quando si incrocia ok e potrei andare avanti così vedete qui in questa zona qua dove si incrociano i due livelli d'aggiustamento ecco qui c'è la sfocatura qui in mezzo e la somma dei due ingrandimenti e si potrebbe andare avanti così insomma quindi ricapitoliamo il livello d'aggiustamento è utile per applicare contemporaneamente a più livelli un effetto o anche più effetti poi è anche utile per applicare un effetto soltanto ad una zona limitata dei livelli sottostanti come abbiamo fatto in questo secondo caso rivediamo il tutto molto bene quindi anche per questa lezione è tutto ciao e ci vediamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti